Ho letto di questa grande riforma ennesima della scuola, perché ogni anno si fa una grande riforma della scuola, questa volta a Zio Pera siamo tornati ancora indietro, che invece di avere i voti, 1, 2, 10, siamo passati a sufficiente, buono e ottimo. Siamo tornati perché ogni due anni si cambiano, poi i nostri ragazzi non capiscono mai, Zio Pera, se i numeri o il voto. Tutto va bene, però la tematica importante non sono se dare un 8 o dare un buono. La tematica importante è che mancano gli insegnanti, mancano gli insegnanti di sostegno e su questo dobbiamo un po' batterci.